Ciao amici di YouTube, qui con voi e ciao alle boom oggi ragazzi, siamo in un nuovo video, oggi Ragazzi, Juventus-Napoli, è sempre una grande partita, è sempre sentita questa partita l'ultima volta Noi eravamo lì a Torino con il gol di Raspatore, abbiamo vinto 1-0 e abbiamo vinto lo Scudetto E' che festeggiamento Oggi le cose sono cambiate perché stiamo a meno 9 dalla Juventus, siamo a 24 punti Però comunque, oggi ce la dobbiamo giocare, siamo qui in compagnia di mio fratello Cristian Ciao ragazzi In compagnia di Chef Franco 1-2 Osimena Aspetta, dico pure il mio pronostico, 0-4 Vabbè, dai Dillo Arbitra orsato Oh fratello, dai 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 Juventus-Napoli Vai giù Non ci faccio il picchiacollo, Rocci, dai Mannaggia miseria, mannaggia miseria Deviate, è stata deviata Deviate, è stata deviata È stata deviata Bravo, Rocco E' nostra, è nostra L'app per far così, io segnalino così Corto con il rapido, voglio? Natan, gira di... Natan! Natan! Ma cosa significa? Ma chi è l'orme? Maronna mia Oh, vai giù, eh Aggiù, mamma mia, mamma mia Cosa va? Che cosa ha fatto? Mamma mia Mamma mia Mamma mia, sei solissimo Aggiù, ma non posso stare su questo, eh Non posso stare da solo, Vlaovic, in mezzo Ma c'è un tossine, eh E sta gioccia cremata Mannaggia Un tossine, la rocazza sta Ma te lo fai Bravo 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 No 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 Ma come cazzo fai? Tutto storto, attirato Ma di quanto c'è? Tutto storto Ma segna Ma se non devo portare un segno Ma che cazzo hai? Tutto storto, attirato Ma dai, fai un pallonetto Mannaggia Fai un pallonetto, lo sappiamo Fai un pallonetto, lo sappiamo Fai un pallonetto Fai un pallonetto, lo sappiamo Fai un pallonetto, lo sappiamo Mannaggia Mannaggia Non so se non è questo primo L'albero della Madonna Ma come si fa? Ma come? Io non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ma non lo so Ma non parate che fai Eh, ti uscire a pallonetto Ma non mi dico Ma mette un pallonetto Ma mette un pallonetto Che l'aria L'aria Ma i tuoi piccolini Non ti puoi muovere il cadente Che stai trainata Vieni sempre a parte 7 mesi Ci hai dato guadagnosi Ma non sei Finito Finito Ragazzi Ma hai dato i minuti a recupero Finisce il primo tempo 0 a 0 Aiuto Abbiamo avuto le occasioni Un'occasione Loro hanno avuto con Blaovic Ma noi abbiamo avuto Delle occasioni incredibili Con Quara Scalio Con Di Lorenzo Stiamo giocando bene Speriamo che non vado a finire come l'Inter 0 a 0 tra Juve e Napoli ma stiamo giocando molto molto bene ci vediamo al secondo tempo però vaiù tiro l'enzo ha da segnare e fare stelle ha da segnare questo sarebbe un scudetto poche sale poche sale pa porca droga posso sale ma che cazzo è iniziato il secondo tempo ragazzi speriamo che questo lato ci porti poche fortuna dai dai ma non fai ma non fai ma non fai ma ci ci ha dato è fuori gioco visto eh non fai ma è fuori gioco ma non fai non fai ma non fai guardavano subito fischiato ah ma la apertura del suo meccanese c'è qua la scheda su di lui non fai ma la città ma la città ma poi c'è la signora ma poi c'è ma li sono furtati ma questi sono furtati questo fiamma e quattro, 45 minuti, segno, stu, stu pezzo di segno, che è sticato a baraschieri tutti, e tenno pure la cazzimma tenno, sti in mezzo, queste s*****, tenno pure la cazzimma, tenno pure la cazzimma, stu animale segno pure, segno pure, ma quando ti odi giù, ma quando, quando c***o ci facciamo subacchiere, ma quando è c***o di f*****e, mannaggia, stiamo facendo parlare come riprendiamo come i piselli, proprio con me il luto, proprio difendiamo proprio in selvi difendiamo cioè non lo so sti figli mi*****o non lo so, difendiamo non dormiamo là dietro quando mettono qualche cross e d'ansieli ti! ma che c***o? ma che c***o? ma che c***o veramente? ma io non lo so mi hai detto non ti scicca? mi hai detto non ti scicca? non puoi che parla sei beperetto ma non ti scicca? mia! santa madonna! è normale che ora morale dai! fa il burro! che c***o è? che è? fu un gioco albo ma non ci fai 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 nobore o c***o? si! fai finta di capri o di giallo? fai finta ma gammarone ma gammarone! ma come si fa? hai fatto come non mi caccia pure eh mannaggisci 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 pensami quando sono noi ma è possibile riuscire a insegnare perché hanno fatto il massato dalla rivessa quale mare ha fatto 5 metti sul progetto di l'orenzo a rigore e guadaletto no c'era vincito che coppa le cazze hanno vincito che coppa le cazze hanno vincito che coppa le cazze coppa le cazze hanno vincito 2 scuoletti e non vincito ma venne un po' chissi con un difensore della vita hanno fatto 6 punti con Monza e con Napoli con un difensore hanno fatto 6 punti ma venne un po' c'era a giocare vincolo mi guarda una partita sana noi abbiamo giocato benissimo però c'è la differenza e lì c'è fu un amico e allora uno con il segno un difensore quello è il discorso un difensore purtroppo il calcio è così l'anno scorso è andato bellissimo ma ho dato una mano ma è tost o è tost cioè noi abbiamo fatto 70 loro hanno fatto 3 cioè non lo so non lo so male ma anche i ragazzi se me la vince noi abbiamo fatto 80 minuti loro hanno fatto 3 contro piedi 3 contro sai che significa? ma noi abbiamo perduto queste partite ma ci siamo conti perché il Valaschale è non andato pallonare ma ci siamo un difensore un difensore ma da chi fa il segno ma non hanno rotto la palla il Valaschale e così non lo so non lo so non lo so ci vediamo in un prossimo video sempre Forza Napoli ci vediamo martedì con la Champions come si fa? io non lo so non lo so non lo so non lo so grazie